È in ospedale una diciottene di Feltre, la ragazza affetta da meningite meningococcica, motivo per il quale sono state immediatamente attivate le misure preventive utili a prevenire la diffusione del contagio. Inizialmente era stata portata in pronto soccorso a Feltre, ma non appena le prime indagini di laboratorio hanno diagnosticato la malattia, il quadro clinico ha suggerito il trasferimento. Il quadro sembrava non particolarmente impegnativo, però per precauzione l'infettivologo che l'ha avuta in gestione nelle prime ore della giornata l'ha spostata in rianimazione proprio per essere in condizione di accudirla col massimo livello tecnologico se necessario. Le linee guida raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico a scopo preventivo ai contatti estretti del caso nei sette giorni precedenti l'inizio della sintomatologia. La paziente sabato 16 marzo era a lezione presso l'istituto comprensivo Primiero dove frequenta l'indirizzo turistico. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ha frequentato una discoteca a Tronadico di Primiero raggiungendo la struttura in autobus. Il lunedì 18 marzo è partita con i compagni di scuola per una gita scolastica in Germania, conclusasi sabato 23 marzo. È importante definire la condizione di contatto stretto anche se stiamo sempre parlando di persone che ricevono una compressa di antibiotico, quindi non questioni particolarmente complesse dal punto di vista del trattamento. Nel caso ci si occupa per precauzione anche in Trentino e Germania e il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Dolomiti curerà l'attività di profilassia a favore dei contatti residenti in provincia di Belluno mediante l'attivazione di un ambulatorio dedicato alla profilassia antibiotica presso l'ufficio igiene di via Borgoruca 30 a Feltre che può essere contattato chiamando lo 0439 88 3414. Potranno accedere a tale ambulatorio oltre alle persone specificatamente convocati e ragazze che hanno condiviso le stesse attività della ragazza. In generale il sistema social è molto attivo, noi chiaramente non facciamo il nome per ragioni di privacy, però abbiamo sempre visto che in questi casi abbastanza rapidamente gli amici individuano la persona e sanno gestire la condizione di contatto stretto con buona precisione.